Grazie a tutti. Siamo sulla pista dell'aeroporto di Galatina perché ci sono in corso le prove per un avvenimento importante che si festeggerà domani. Ce lo racconta lei stessa? Io lo racconto in due parole. Domani celebreremo il venticinquesimo anniversario della costituzione del decimo reparto manutenzione velivoli del quale ogni tanto ci troviamo a parlare. Sono 25 anni che si chiama così ma le radici del reparto affondano in tempi ben più remoti. Le nostre origini partono sin dal 1943 quando alcuni uomini qui sull'aeroporto di Galatina hanno operato per ricostituire l'aeronautica italiana dopo l'armistizio del 1943. Io la sto intervistando davanti a un veivolo che lei mi diceva che è perfettamente efficiente e funzionante, anzi è anche armato. E che è poi il veivolo di cui voi vi prendete cura tutti i giorni mi pare. Sì signore, questo è un veivolo a ermacchi MB339 CD completamente digitale. Come diceva lei è armato ma non sicuramente per scopi di guerra. Questo veivolo infatti ha fra le sue varie missioni anche quella di slow mover interceptor. In caso di grossi eventi come è stato per esempio il G8 all'Aquila o altri eventi similari, questo veivolo esercita un pattugliamento aereo per impedire a malintenzionati o a terroristi di poter portare a termine le loro attività non legali. E in questo caso appunto è armato. Normalmente è disarmato perché questo è un veivolo che opera qui sulla scuola di volo dell'aeroporto di Galatina, nelle mani dei piloti del 61esimo stormo, come addestratore di nuovi piloti militari o di nuovi istruttori militari. Senta, quanti ce ne sono qui a Galatina? Qui a Galatina ne abbiamo circa un 25 direi. Ma voi avete fatto anche un'opera di restauro abbastanza importante, no? Un paio di anni fa mi pare. No, diciamo anche ultimamente, lei si riferisce sicuramente al G46. Sì, esatto. Ma ultimamente abbiamo fatto un'opera di restauro che è ancora più significativa secondo me, perché è stata restaurata la coda, in parte restaurata e in parte totalmente ricostruita, la coda di un vero e proprio cemelio dell'aeronautica mondiale. L'ultimo Savoia Marchetti S55 esistente al mondo, che è di proprietà della fondazione Santos Dumont in Brasile. La coda appunto l'abbiamo rimessa in condizioni di efficienza totale e quindi il resto del velivolo la sta aspettando e si dovrebbe ricongiungere al più presto nel museo appunto Santos Dumont con il resto del velivolo. Quindi un velivolo di importanza mondiale sarà nuovamente intero e pronto per la visita da parte del pubblico. Ho avuto occasione qualche mese fa di visitare il suo reparto. La cosa che si percepisce di più è l'amore che hanno i suoi uomini per le macchine. Non le trattano come macchine? È un'impressione sbagliata? No, no, assolutamente. Uomini e donne, perché c'è anche qualche donna nel nostro reparto. Chiaramente tutti i dipendenti civili della difesa, le donne. Nel reparto ci sono ufficiali, sotto ufficiali e 75 dipendenti civili, fra uomini e donne, la maggior parte uomini chiaramente. È l'amore di una grande famiglia, una famiglia salentina, perché non dobbiamo dimenticare che qui dentro il 99% del personale, ad eccezione di pochissimi ufficiali, è salentino di nascita, di origine e di residenza. E quindi sto parlando di salentini doc, ci mettono veramente il cuore in tutto quello che fanno e soprattutto la loro professionalità. Quindi portano avanti l'attività manutentiva sui velivoli, ma anche sulle barriere d'arresto, di cui noi siamo l'unico ente in Italia a cui è demandato questo tipo di attività. Le barriere d'arresto che cosa sono per chi non le ha mai sentite? Le barriere d'arresto sono dei sistemi che servono a frenare i velivoli che si trovano in difficoltà per qualche avaria e non hanno la possibilità di fermarsi, dunque il rullaggio della pista al momento dell'atterraggio. Quindi ci sono barriere d'arresto a cavo e a rete. Le barriere d'arresto a cavo chiaramente servono per i velivoli che sono dotati di gancio. Le barriere d'arresto a rete è altro sistema per i velivoli come l'MB339 che non è dotato di gancio. Ma entrambe svolgono la stessa funzione, quella cioè di fermare un velivolo che si trova in difficoltà al momento dell'atterraggio. Posso farle una domanda personale? Prego. Ho scoperto che lei è stato addetto militare a Washington, all'ambasciata italiana consigliere. Io sono stato un assistente tecnico dell'addetto aeronautico e per la difesa a Washington. Ecco, ma ha mai nostalgia di quei tempi? Quanto tempo fa è successo intanto? Beh, io sono tornato dagli Stati Uniti oramai nel 1998. È stata un'esperienza meravigliosa. Siamo stati lì tre anni, dal 1995 al 1998, insieme alla mia famiglia, mia moglie e mio figlio, che ha avuto anche l'opportunità di imparare bene l'inglese chiaramente. Sento in parte nostalgia di quei tempi come sento in parte nostalgia di quando giovane ingegnere, appena laureato, lavoravo a Sigonella, in Sicilia. Ma sicuramente, purtroppo, fra pochi mesi lascerò l'incarico qui a Galatina. Sicuramente sentirò un'altrettanto importante nostalgia per l'aeroporto di Galatina. Lo lascerà in che senso? E verrò trasferito nuovamente a Roma, probabilmente al comando logistico, al superiore comando logistico. Chiaramente io oramai mi sento in parte salentino, devo dire, perché tre anni e mezzo vissuti qui segnano sicuramente. Mio figlio si è anche fidanzato nel Salento, quindi rimarrò comunque legato, e questo mi fa enorme piacere. E lascerò il reparto con una nostalgia incredibile, perché comandare questi uomini è veramente un onore e un orgoglio indicibili. Grazie, comandante. Mi fa piacere essere qui nel Salento. Grazie. Prego.